Ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo video di shopping Finalmente tanti acquisti che abbiamo comprato di recente Quindi vi vogliamo far vedere Tanti acquisti autunnali Ah, ecco, si ho comprato, facci vedere Guardate quanto è bello questo vestito, è di Stradivarius L'ho comprato, praticamente era lunghissimo E io l'ho accorciato perché sono un po' corta Ed è un colore bordeaux, è un tessuto comunque pesantino Poi magari con un giubbino sopra A me non è che mi piace tanto, ti dico la verità Sì, è carino, poi è molto stretto, aderente, corto, mi piace Ma sto colore, boi, è un po' squallito, non è? Perché bordeaux è un colore proprio autunnale Ti giuro, è brutto, cioè per me è proprio brutto sto coso che ti sei comprata Cioè, è orrendo, veramente A me non piace Sì, ma tenitelo per te, cioè, quello è mio questo vestito, è mio secondo i miei gusti No, ma fa proprio schifo, guarda, te lo dico un po' sincero Tu sai che io lo so sincera, però a me fa un po' schifo sto vestito Che hai detto? No, fa schifo, cioè per me fa schifo Cioè, io devo dire la verità, per me fa schifo Basta, non ti sopporto più, guarda, non ce la faccio più Cioè, ma è brutto, cioè, non... Mi ha scocciato Ma perché rincazzi? Oddio Basta 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.